Ciao, benvenuto al consueto appuntamento con l'aggiornamento sull'indice DAX. Come ho anticipato la settimana scorsa, a partire da questa settimana, gli appuntamenti con gli strumenti che analizzano gratuitamente saranno duplici in settimana. Che cosa ci dobbiamo aspettare dalle DAX? Innanzitutto sembrerebbe, incrociamo le dita, che il mercato voglia prendere una bella direzione. Ha avuto una bella rottura di un'altra linea importante, quindi il massimo ciclico preventivato nelle settimane scorse al momento è ancora valido. Rimando ovviamente concentrato e collegato ovviamente a questa videoanalisi perché immediatamente dopo la sigla andremo a fare un prospetto di quello che ci potrà eventualmente il mercato regalare nei prossimi giorni. A fra pochissimo mi raccomando non andare via e anzi nel frattempo approfitta, metti un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Eccomi qui, prima una breve comunicazione di servizio, concedimelo. Io sono Paolo Peisino, sono un trader da 2007 e da 8 anni la svolgo come un'unica attività. Sei la prima volta che vedi una mia analisi, quindi sei sul mio canale, innanzitutto ti suggerisco, come ho già detto precedentemente, di iscriviti al canale, cliccare sulla campanella e di visitare il mio sito www.tradainpertutti.com qua troverai tutti i miei 15 anni di esperienza riversati in contenuti sia formativi che di servizi. Formativi con un corso di analisi ciclica e avrai l'opportunità di imparare l'analisi ciclica dall'unico italiano ad aver creato un programma formativo di 41 ore, ma ad avere creato anche uno strumento che non esiste sul mercato attualmente. Che cos'è? È l'indicatore Volta, che ti permette di in maniera completamente automatica fare un'analisi nel passato e unico proiettare nel futuro il movimento del prezzo. Tutta l'analisi ciclica che trovi oggi sul mercato si ferma alla candela in corso. Non è l'analisi ciclica, l'analisi ciclica proietta nel futuro il movimento del mercato perché bisogna sapere con mesi, giorni, ore d'anticipo, a seconda di quello che chiaramente è il nostro stile di trading, che cosa farà il mercato per poter vendere i massimi assoluti e comprare i minimi assoluti, che è quella cosa che tutti ti dicono che non si può fare. In realtà è un qualcosa che si può assolutamente fare, bisogna però sapere prima quando questo avverrà. Ti invito anche a registrati al canale Telegram gratuito, basta cliccare qua per partecipare a una community molto attiva di traders che lavorano con metodologie anche diverse dalla mia, e si fanno discussioni anche di macroeconomia come quella che in questo preciso istante si sta facendo per via della riunione straordinaria di lunedì prossimo con la Fed, della Fed a causa del fallimento dell'importante banca americana della Silicon Valley. Ma direi di, velocemente come d'abitudine, dare un'occhiata a quelli che sono gli risultati dei segnali intraday, perché se si ha la ricerca dei segnali intraday sugli indici questo è il posto giusto. Anno 2023 in corso, 1.234 punti sul Nasdaq, 180 punti sul DAX, 35 punti sul Dow Jones, un'unica operazione. Mese di marzo è così così, con 86 punti di profitto sul Nasdaq, ma un DAX che nel momento è ancora negativo con 115 punti di perdita. Un mercato molto difficile in questo momento e il DAX mi sta facendo un po' girare le scatole. Siamo entrati short ieri, così ci colleghiamo all'analisi. Nel tardo pomeriggio sul DAX, perché il mercato ha nuovamente rotto la trendline del ciclo 80 giorni, come aveva già fatto in realtà nella data del 2 di marzo, e vediamo un po' che cosa succederà. È già riuscito a rompere interessante il supporto 15.329, ovviamente ultimo livello tosto strong sarà questo 15.197, questo è il future con scadenza marzo, ok? 15.197 che molto probabilmente romperà le scatole. Da un punto di vista ciclico stiamo analizzando, questo sarà la prima volta che segui un'analisi e l'indicatore Voltime, ok? È in grado di analizzare i cicli da 54 mesi fino a un'ora. sommando e evidenziando, in questo caso vedi i quadratini gialli, andando a selezionare i cicli che desideri, l'indicatore cosa farà? Andrà nel passato, ok? Farà un'analisi totale del passato di questi cicli, né andrà a stabilire e a calcolare la durata media, vedi che la precisione è pazzesca, la durata media, questa durata media non farà nient'altro che poi andarla a proiettare nel futuro e quindi tu saprai sempre con un anticipo pazzesco che cosa farà il mercato. Se stai seguendo altre analisi cicliche noterai subito una cosa, sono l'unico che mette le date in anticipo di quello che sarà. Qui non c'è un conteggio di candele, non bisogna rifare le analisi, non bisogna fare nulla perché l'analisi ciclica, quello che proietta, quello deve succedere. Se devo intervenire ogni qualvolta ho una previsione e modificarla vuol dire che il mio metodo di analisi ciclica non è un metodo che prevede quello che farà il mercato futuro ma è un metodo di momentum e l'analisi ciclica non è momentum ma è previsione. Quindi in questo caso abbiamo un'analisi fatta fino al 18 di maggio, andiamo anche ad aggiungere ancora qualche data e qualche data che ovviamente avrà una piccola modifica causata che ho messo lo stesso numero da qualche parte, causata da una mancanza dell'MT4, ossia vengono tolti i sabato e le domeniche e quindi se io qui ho 10 e mi spariscono due giorni diventerà 12, è normale, non è un errore dell'analisi ma è un problema di tutti, un problema, tutte le piattaforme di trading tolgono le giornate in cui il mercato non è aperto. Cosa dobbiamo aspettarci? Allora in questo caso abbiamo cicli evidenziati dal 36 mesi a 40 giorni, noi vediamo che il 40 giorni ha una fase ribassista che vedrà la sua fine intorno al primo di aprile 2023, dopodiché avremo un massimo del ciclo di nuovo a 40 giorni e una chiusura intorno al 29 di aprile di una componente ciclica importante che è in questo caso l'80 giorni. Se facciamo un riepilogo per capire la direzione dei mercati vediamo che siamo in una fase ribassista del ciclo a 36 mesi, una fase ribassista del ciclo a 18 mesi, fase ribassista anche del 40 settimane, fase in questo caso ahimè rialzista del 20 settimane come possiamo vedere siamo in una fase di rialzare 20 settimane però poi abbiamo di nuovo short 80 giorni e short il 40 giorni quindi la componente ribassista enorme veramente enorme e quindi gioco forza l'unica direzione che possiamo andare a prendere quella ribassista sicuramente è stato un po un azzardo già un ingresso con i supporti subito sotto ma non mi volevo perdere l'occasione ok l'occasione essendo da un punto di vista ciclo dalla parte corretta di vedere il mercato scender quindi non volevo essere costretto a entrare con un ritardo di 700 punti dal massimo che sarebbe stato veramente troppo ai fini di uno stop loss multi day quindi cosa dobbiamo fare per chi non ha dentro ovviamente ormai l'ingresso va tassativamente preso sotto 15.197 con possibilmente anzi facciamo così aumentiamo un pelo lo zoom con possibilmente se magari levo questo riesco anche a cliccare i pulsanti con possibilmente un movimento del genere che sarebbe più corretto quindi movimento così rottura ritest e poi un ingresso magari rottura ritest e perché no un ingresso qua quindi si potrà mettere uno stop più stretto per chi invece è già short a mercato per una propria metodologia chiaramente di trading ovviamente vale la pena mantenere l'operazione e lo stop l'ho messo sopra che poi in caso di raggiungimento comunque non è io personalmente non non chiuderò l'operazione ma mi girerò long a copertura e quindi questa operazione short non la chiuderò sicuramente quantomeno fino ad aprile io fino ai primi di aprile l'operazione che voglio mantenere cioè che reputo valida e che reputo anche ma in realtà fino al 29 di aprile questa data è molto in alto andrebbe messa più giù ma il prezzo è troppo in alto avendo noi una fase ciclica molto importante ribassista con i cicli grandi io proprio mi aspetto che il mercato faccia un movimento del genere vediamo se possiamo tirare un po più geografico no e mi aspetto che il mercato faccia appunto movimento del genere quindi un movimento di ribasso poi un ritracciamento sul ovviamente il massimo circa 40 giorni e una sua chiusura quello che vedi quest'onda qui è appunto la somma di tutti questi cicli che naturalmente vanno a creare un'onda composta nella colonna di destra puoi vedere la la media durata di tutti i vari cicli rispetto a quello che invece sarebbe la durata standard ha fatto un esempio circa 40 giorni l'indicatore ci dice che andando indietro nel tempo la media è di 36 giorni il ciclo da 80 giorni di 73 giorni un ciclo da 20 settimane che sono 140 candele e di 124 giorni e via e via discorrendo con questo è tutto direi che ci possiamo dare appuntamento a settimana prossima ok durata giusto l'analisi mi raccomando il like ti chiedo questo grande favore per te è gratis per me è importante perché mi aiuta a crescere su youtube e mi aiuta soprattutto a diffondere il più possibile l'unico metodo ciclico presente in italia che veramente proietta nel futuro il movimento del mercato non cambia idea non va riconsiderato non va spostato per adattarlo a un ciclo e adesso potuto la portata di tutti perché non richiede una formazione disumana in quanto l'indicatore fa tutto quanto da solo niente con questo è tutto ti auguro un buon weekend e alla prossima analisi ciao ciao